benvenuti nel mondo degli orologi rakieta rakieta è un marchio di orologi russo con una lunga e interessante storia che risale al 1961 il nome rakieta significa razzo in russo e il marchio è stato creato per celebrare il primo volo spaziale umano compiuto dal cosmonauta sovietico yuri gagarin lo stesso anno l'azienda sede a peterov vicino a san pietroburgo e produce orologi meccanici di alta qualità con movimenti realizzati internamente rakieta è uno dei pochi marchi di orologi al mondo in grado di produrre completamente il proprio meccanismo di orologio dall'inizio alla fine la collezione di orologi rakieta comprende una vasta gamma di modelli per uomo e donna che spaziano dai classici orologi da polso a modelli più moderni e innovativi i modelli più famosi includono il rakieta polar l'amfibia e il big zero che sono diventati molto popolari tra gli appassionati di orologi in tutto il mondo il design unico e distintivo degli orologi rakieta è caratterizzato da numeri grandi e chiari sul quadrante che facilitano la lettura dell'ora anche in condizioni di scarsa illuminazione la cassa degli orologi rakieta è realizzata in acciaio inossidabile o in altri materiali di alta qualità a seconda del modello e i cinturini sono disponibili in pelle tessuto o altri materiali la forte attenzione per i dettagli e la qualità è il segreto del successo di rakieta infatti il marchio si impegna a fornire orologi meccanici di alta qualità realizzati con materiali pregiati e con una grande cura per la lavorazione artigianale rakieta è anche un marchio molto accessibile con una vasta gamma di modelli disponibili a prezzi ragionevoli questo lo rende una scelta ideale per chi cerca un orologio meccanico di alta qualità con un design unico e una storia interessante se sei alla ricerca di un orologio meccanico di alta qualità con un design unico e una storia interessante rakieta potrebbe essere la scelta perfetta per te grazie alla sua attenzione per i dettagli e la qualità e alla vasta gamma di modelli disponibili a prezzi accessibili rakieta è uno dei marchi di orologi più apprezzati al mondo